Bene, buonasera a tutti, è veramente tantissimo tempo che non faccio un video, si vede anche dal fatto che erano più le luci per registrare, non c'ho più niente e io voglio sverginare questa mia assenza dal video, sto registrando l'audio direttamente qua, non so neanche se si sente, in che maniera, di quale tema importante ci parlerà Paolo Frigo adesso tanti anni, tanti mesi che non fa un video dove parla e di cos'è che ci vuole parlare di qualcosa sicuramente che ci arricchisce di importante e cioè che lui vuole dare un contributo positivo, non si metterà mica qui a parlare male di qualcosa, vero? Beh, questo video è un grande classico, andremo ad ascoltare una carrellata di musica orrenda Cioè, adesso vediamo, Eurovision Song Contest, tutte quante le canzoni, una in fila l'altra, cioè una carrellata, musica orrenda Perché facciamo questa cosa? Sadismo? Voglia di lamentarsi? Ma così un po' per giocare, l'ho già fatta altri anni, che poi tra l'altro YouTube mi blocca il video perché c'è il copyright Non so neanche se riuscirò a caricarlo, al massimo caricherò questo e poi vi andate a vedere voi le canzoni se proprio volete farvi del male, insomma Cioè non è importante poi che voi vi guardate l'Eurovision Se facciamo due risate, stiamo qua in compagnia, io intanto mi guardo lì invece di guardare qua C'è gente che fa anni a fare i video, a guardarsi del coso invece che guardare L'Eurovision Song Contest, che non è esattamente Euro perché dentro c'è anche gente che non ha tanto a che fare con l'Eurozona Praticamente l'Eurovision è il festival bar fatto con i skate di Sanremo Questa è un po' la situazione, pompato come se fosse Non so Un festival importante Pompato come se fosse la settimana della moda di Milano Perché comunque lì, luci, colori, esplosioni De musica Che ne è poco, se durante l'Eurovision qualcuno suonasse il campanello Diciamo che Il corriere che suona, ecco, più o meno il livello è quello lì Adesso mi organizzo qua un attimo, mi attrezzo E vediamo sta carrellata, de roba Improponibile In genere cosa vedremo? Musica de stampo occidentalizzato Cioè anglosassone, cioè musica americana Cantata in linguaggi improbabili Per quelli che cantano ancora In servo, in croato, in polacco, in svedese Altrimenti E' gente che prende un po' di cultura popolare Che ne so, i greci che mette dentro un buzuki Però canta in inglese Insomma, un minestrone proprio inguardabile Però noi ci divertiamo così Buon viaggio Spegni qua, dai, come si fa? Allora, è passato tipo una ventina di minuti Da quando ho fatto quel video là che avete visto prima Come vedete qua C'è un altro video E' storto, è diverso Sono su un altro programma Purtroppo devo tornare sui miei passi Non sono più quello di una volta E non mi sono mica divertito Non mi sono divertito per niente a vedere queste canzoni qua Adesso diventiamo seri Praticamente sto lavorando in un posto Dove sono costretto ad ascoltare la radio Tutti i giorni Tutto il giorno, tutti i giorni Una specie di tortura Perché è una radio commerciale Con le pubblicità E con due volte Mahmood Due volte Gali Due volte Angelina Mango Tre volte Annalisa Tutti i giorni Cioè questa radio qua Mette su questa roba Dopo 3-4 ore La rimetto in su Per cui il mio animo E' molto turbato Da Da La bassa qualità Della musica Moderna Odierna Però l'Eurovision Song Contest Ho detto Ma sì ma è una roba così L'è divertente Non è divertente per niente Ho appena visto tutte quante le canzoni E non sono riuscito a guardarle Senza schippare Ho dovuto schippare Per cui io vi voglio Esimere Togliere da questa tortura Vi segnalo Soltanto la canzone Greca E la canzone Irlandese L'irlandese canta In inglese Ma è una roba un po' inquietante Un po' strana Tutto sommato Interessante Nel Calderone La greca Fa una roba con i ritmi Greci E ce n'è anche un altro Forse gli armeni E poco altro È francese Canta in francese Ovviamente Qualcun altro Nella loro lingua C'è un altro Che forse Latvia O Lituania Che canta Nella propria lingua Che è interessante Sono quasi tutte Canzoni dance Praticamente Sono tutti figli Disconosciuti Degli Imagine Dragons Ecco la roba lì BPM è quello I suoni sono quelli La pompagine è quella Sono praticamente Dei grandi ritornelli Vabbè a noi Fanno vedere il ritornello Effettivamente Però insomma Non sembra esserci tanto altro Adesso non è che mi venite a dire Devi ascoltare tutta la canzone Cioè nel senso Fa lo stesso Sto bene anche così Facciamo che mi sbaglio Che sono delle hit E io mi sbaglio Ok La diamo per scontato Però cosa dire Niente C'è anche Rick Beato Che sta facendo Dei video belli Su questa cosa qua Su Sulla qualità Della musica di adesso Lui è boomer Davvero Perché ha 60 anni Io un po' meno Però comunque Un po' di musica L'abbiamo ascoltata E quella di adesso È quel che è Se suona il campanello Appunto il citofono Più o meno siamo lì Niente Per cui Questo video Non inizia qua E non finisce qua Cioè Niente Non vi faccio vedere niente Non Non ne vale la pena Non guardatelo Andate Sono andato sul lago Stamattina È bellissimo Andate sul lago Tra l'altro Adesso c'è poca gente Non c'è gente Che mette musica orrenda A parte un bar Che Lui Quelli lì hanno sempre Musica orrenda Ma io sono andato in uno Fatalità Che c'aveva dei classici Bob Dylan I Journey Eh Simon Garfunkel La sfanghi così È roba già sentita Ma almeno la sfanghiamo Allora Questo video qua Che voleva essere Una roba interessante Ma non lo è Niente Cioè nel senso È domenica È un po' triste per me Però Vabbè Insomma C'è di peggio Prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima